musica Sono il capolamo, oggi ho scelto Satta, vengo da Cagliari, sono un operatore mezzo speciale del genio e lavoro con lei. Questa è l'autogru Astra C400M, ha una potenza di 450 CV e una portata massima di sollevamento di 22 giornalati. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!